Mentre la campagna vaccinale esordisce nella fascia tra i 50 e i 59 anni e restano da concludere ancora diversi anziani, a Piacenza circa 10.000 giovani under 40 hanno già ricevuto almeno una dose anti-Covid. Non si tratta di furbetti, ma di ragazzi e ragazze che ne hanno diritto per motivi professionali o familiari. È il caso ad esempio della 24enne Camilla Righi che ha potuto ricevere la dose contro il virus per proteggere la nonna disabile con la quale convive. Una protezione personale ma anche nei confronti delle persone importanti, delle persone fragili che in questo caso vivono con me. E proprio come lei anche tanti altri giovani piacentini hanno già potuto accedere alla somministrazione anti-Covid. La dottoressa Anna Maria Andena, responsabile delle cure primarie per l'ASL, spiega infatti che nel Piacentino circa 10.000 cittadini under 40 hanno effettuato la vaccinazione. Si tratta dei conviventi di soggetti fragili oppure di chi lavora in settori prioritari come le strutture sanitarie, ma anche dei ragazzi disabili e dei genitori di bambini vulnerabili. Io sono stata vaccinata perché lavoro stretto contatto con i bambini e con le persone più fragili. E sicuramente per un giovane come me è importante sapere di poter dare il proprio contributo anche in questo modo, cioè cercando di tutelare se stessi ma soprattutto anche gli altri, le persone più fragili. Io sono stata vaccinata grazie all'università perché studio per diventare educatrice e quindi dovendo fare il tirocinio in presenza hanno proposto a noi studenti di poter essere vaccinati e per me fare il vaccino è stato un po' un segno di libertà, un segno di speranza. È stato giusto vaccinare prima gli anziani o sarebbe stato meglio dare la priorità ai giovani? Io credo che sia importantissimo vaccinare gli anziani perché sono le persone più a rischio e che appunto è più probabile che abbiano delle ripercussioni più gravi sulla propria vita, ma allo stesso tempo credo che sia anche importante vaccinare i giovani perché sono quelli che si muovono più di tutti. Fatto sta che a molti giovani piacentini è già andata la dose contro il virus in anticipo rispetto alla maggior parte dei coetanei per proteggere i familiari più fragili, una semplice iniezione che loro definiscono come una rinascita.